Buongiorno a Friuli, benvenuti in una nuova edizione della nostra rassegna stampa sportiva. Anche oggi analizzeremo i vari temi che riguardano la nostra Udinese e come questi temi sono trattati dai quotidiani locali e nazionali. Allora spostiamoci subito sul messaggero Veneto che cerca di fare un viaggio all'interno della crisi Udinese. Strama può solo salvarsi ma Pozzo doveva aiutarlo. Squadra con poche alternative, impoverita da un mercato invernale senza colpi. Questa è l'analisi del messaggero. Andiamo a leggere anche un estratto, è l'articolo a firma di Pietro Oleotto. I numeri non sono con stramaccioni e dettano anche gli ultimatum che sono rivolti al tecnico. È una sorta di paradosso, Pozzo è costretto a tenere appeso l'allenatore al calendario, a dargli una chance di riconferma attraverso i risultati. Ma così facendo boccia la politica societaria nell'anno che doveva essere della ricostruzione. Non parliamo dello stadio Friuli, ci riferiamo alla squadra alla quale mancano dei tasselli per essere davvero lavorabile. Plasmabile, visto che ci stiamo infilando nel tunnel della scultura, andiamo sul classico. Neppure Fidia sarebbe stato ricordato con un pezzo di pongo tra le mani. Ci vuole il marmo per tentare di creare un capolavoro. E solo così si potrà capire la qualità dello scultore al quale è stata affidata la commessa. Dunque questa analisi del messaggero che punta un po' il dito anche contro la società bianconera. Rea, secondo il quotidiano, di non aver dato al mister bianconero una rosa di qualità tale da poter ambire a qualcosa di più della salvezza. Ieri poi alcuni esponenti della squadra sono stati i protagonisti di un incontro con i tifosi. Il tifosi è venuto a Gemona, al locale Arredo Più. Erano per la precisione Scuffet, Ertò e Terò. Sempre grande bagno di folla ogni volta che i giocatori bianconeri si muovono per incontrare i tifosi. Ieri erano circa un centinaio ad accogliere i calciatori dell'Udinese Scuffet, Terò ed Ertò. Siamo orgogliosi, i nostri tifosi, ha detto Scuffet, che non fanno mai mancare il loro supporto. E davvero va un grande applauso ai tifosi friulani che anche in un momento così difficile, anche in un momento in cui c'è bisogno di grande sostegno, ecco che loro si fanno sempre trovare pronti, rispondono sempre presente alla chiamata della squadra. Andiamo a analizzare anche quella che può essere la prossima sfida, quella che sarà sicuramente la prossima sfida dell'Udinese, ossia la gara contro il Torino e secondo il messaggero ora il tecnico deve aggrapparsi ai grandi vecchi, ossia i soliti nomi, ossia Danilo, Pinzi e Di Natale formeranno la spina dorsale e la formazione anti-Torino. Ci si affida dunque all'usato sicuro che poi insomma al di là di Pinzi che è stato fuori per infortunio, infortunio muscolare prima, un'influenza molto fastidiosa poi, Danilo e Di Natale sono praticamente tra gli insostituibili di questa formazione. Lo ha detto anche Gian Paolo Pozzo, vorrei più giocatori che facciano da zoccolo duro, gente che resti qui 7-8 anni. Già è meglio, aggiungiamo noi, se sono italiani perché riescono a trasmettere quel senso di appartenenza del quale difficilmente si accorgono quei ragazzi che arrivano all'Udinese all'età di 20 anni e che considerano quella friulana una semplice tappa di passaggio. No, non deve essere così, lo hanno sostenuto tutti i tecnici che hanno fatto grande l'Udinese nell'ultimo ventennio, lo ribadisce spesso anche Andrea Stramaccioni, Stramaccioni che dunque dovrebbe affidarsi di nuovo ai suoi elementi di maggior personalità per venire fuori da un momento un po' così così, insomma un momento sicuramente un po' difficile, tre sconfitte consecutive, adesso arriva il Torino che ha vissuto molto probabilmente la miglior settimana della sua stagione vincendo al Samamesse in Europa League contro la Tech Bilbao e addirittura poi battendo anche il Napoli in campionato, sicuramente la squadra più in forma dell'intero torneo di Serie A e l'Udinese adesso ha la grande chance di voltare pagina contro un avversario sicuramente molto molto difficile. Oggi poi in Lega verrà varato il piano Salva Parma, cerchiamo anche qui di capire qualcosina in più, con una serie di limiti giuridici e di opportunità dovrà confrontarsi oggi l'assemblea della Lega di Serie A convocata soprattutto per affrontare il Caos Parma a cui parteciperà anche il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio che ha preannunciato un piano per mantenere in corsa la squadra, ultima in classifica. Un piano che dovrebbe prevedere il sostegno di uno o due sponsor che appunto si accolleranno le spese del club emiliano da qui alla fine della stagione. Ieri poi è arrivato anche un comunicato da parte di Sky che ha cercato un attimino di sensibilizzare la Lega su questo argomento. Sky preme per la regolarità del torneo, soprattutto Sky insomma vuole tutelare tutti i suoi abbonati che hanno pagato per un campionato a 20 squadre, invece se ne stanno trovando uno a 19. Ma concentriamoci sull'Udinese che ieri è stata protagonista in amichevole contro la Clodense, un amichevole che noi di Udinese Channel vi abbiamo trasmesso, amichevole importante in vista del Torino. Allora andiamo a gustarci la sintesi. Ritorno a un appuntamento con il calcio giocato, protagonista la prima squadra che tra pochissimi minuti scenderà in campo nella amichevole infrasettimanale contro la Clodiense. Bianconeri che mi sembra si stiano disponendo con il consueto, 3-5-2, almeno questo è quello che si evince dalla formazione iniziale schierata da Andrea Stramaccini. Eccoli qui, partiti Clodiense che subito parte in avanti con questo schema molto particolare, uno schema che abbiamo rivisto anche alla formazione scelta da Andrea Stramaccini. Di nuovo Bruno Fernandes in possesso del pallone, la combinazione con Geico che lascia scorrere per Tero, Cyril prova a liberarsi, entra in area, Cyril il sinistro ed è 1-0 Udinese. Rete di Cyril, Tero ha indovinato l'angolo giusto, Cyril davvero non poteva arrivarci questa volta a Enrico Ogogic e quindi è bastato uno spunto personale da parte di Tero che ha combinato bene con Geico, si è liberato e davvero da lì insomma l'ex Chio Verona quest'anno, non sbaglia mai. non ha dubbi, il direttore di gara che lo ricordiamo è la signora Francesca Campagnolo di Bassano del Grappa e dunque Guilherme sul pallone, in corsa breve, il destro ed è gol, ed è gol, l'aveva chiamata Maurizio Ferrari, così così però l'atteggiamento di Enrico Ogogic che ha visto il pallone scorrere alla sua destra, pallone che era comunque precisissimo. Si è rivoluzionata direi in 9-11 se non vado errato perché sono rimasti in campo solamente Coppolaro e Danilo rispetto alla formazione che ha abbandonato la gara al termine dei primi 45 minuti. Si rivede che piacere Giampiero Pinzi indossare la maglia bianconera. Sì, non so se si accenderà il finale di gara anche perché comunque sia ci sono tante pedine diverse, tante situazioni diverse, attenzione, bella sponda di Aguirre per Cone, grande giocata di Cone, bellissimo gol. Ricordava la girata contro il Napoli in Coppa Italia, avevo appena finito di dire, non sappiamo se ci saranno altre fiammate. Questa è una bellissima giocata, bellissima sponda di Aguirre, altrettanto bella la girata volante di Panagiotis. Il pallone è una domenica che alle 15 ci dovrà far trovare pronti, non so se anche Andrea Strammaccioni avrà ottenuto le indicazioni che si aspettava dai suoi, da qualche singolo, da qualche elemento, magari proprio Panacone che scatta adesso sulla corsia di sinistra, uno dei monitorati, così come logicamente magari il tecnico aspetterà anche di sapere quali sono le condizioni di Tom Merto, intanto è finita, triplice fischio e dunque possiamo mettere agli archivi questo 4 a 0, Reti 3 nel primo tempo, una nella ripresa, una partita tutto sommato intrigante, interessante per quello che riguarda il punteggio che lascia comunque ancora un po' di lavoro ai nostri ragazzi nel proseguimento della settimana. Dunque un risultato sicuramente non provante dal punto di vista dell'avversario, un risultato che lascia un po' il tempo che trova ma che comunque è importante per la preparazione in vista della gara con il Torino, un 4 a 0 che dà fiducia, un modo per mettere benzina nelle gambe soprattutto in quegli elementi che nell'ultimo periodo hanno avuto un po' più di difficoltà a trovare la maglia titolare, ad esempio Alexander Geico che ritrova la condizione dopo due mesi di stop per infortunio e anche soprattutto Giampiero Pinzi che ritorna ad indossare il bianconero dopo diverso tempo. Ieri però c'è stato anche l'infortunio a Tomaerto che ha particolarmente preoccupato, allora cerchiamo anche qui di capirci qualcosina in più affidandoci sempre al messaggero Veneto. Il difensore francese è rimasto a terra a seguito di un contrasto e dopo qualche minuto è stato trasportato fuori dal campo a braccia dai medici bianconeri che lo hanno visitato riscontrando una forte contusione al Perone. Sembra quindi scongiurato un interessamento del ginocchio così come era apparso in un primo momento assistendo all'infortunio dai bordi del campo. Al termine della partita Erto ha lasciato lo stadio zoppicante, visibilmente seccato e preoccupato. Oggi se ne saprà di più anche se lo staff si è già pronunciato con un certo ottimismo così come per Piris anche ieri dispensato al lavoro di gruppo a caso di un affaticamento muscolare rimediato mercoledì mattina. Comunque a completezza di informazioni, ieri poi Erto è stato protagonista all'evento con i tifosi a Gemona e sembrava assolutamente in grado di deambulare da solo per cui sicuramente un infortunio da valutare però l'impressione che abbiamo avuto nella serata di Gemona è che per Erto fosse tutto ok. Ovviamente Tomà è uno dei perni della difesa bianconera per cui un suo recupero per la gara con il Torino è ampiamente e assolutamente auspicabile. Andiamo a leggere anche qualcosina di più per quanto riguarda Totò di Natale. Si indaga sul futuro del capitano e lo si fa attraverso la moglie Ilenia. Totò non essere impulsivo pensa bene a quello che vuoi fare e puoi dare ancora molto al calcio. Queste le parole della moglie di Totò di Natale. Leggiamo allora qualche strato e la sua intervista. Qual è il pregio più grande del suo marito e qual è il difetto? È buono, generoso e umile. Spesso la sua umiltà mi fa quasi rabbia, mi spiazza. Difetti in realtà ne ha molti e testardo, cociuto, orgoglioso e volubile. Cambia idea da un momento all'altro. A volte diventa ansioso quando gli sembra di non avere la situazione sotto controllo. E poi viene anche raccontata un po' quella che è la paura di volare di Totò di Natale che spesso, insomma, si può scegliere un mezzo diverso dall'aereo. Lo fa, l'ha sempre avuta, tanto che quando ci siamo sposati nel 2002 mi sono dovuta accontentare di una crociera come viaggio di nozze. Ogni volta che deve prendere un aereo inizia a chiedere notizie sul meteo, se piove, se c'è vento, soprattutto quando deve fare tragitti brevi. Quando siamo andati a Miami, per esempio, è salito, si è addormentato e non si è nemmeno accorto di aver volato. Leggiamo anche poi un ultimo estratto dell'intervista che troverete in maniera completa sulla edizione cartacea del Messaggero Veneto. I nostri due figli ormai sono udinesi. Diletta ha imparato a parlare friulano. Dovremmo coinvolgerla, quindi, nella trasmissione di quiz con Dottora Massimo Campazzo e Chiara Perale. Sicuramente sarà più brava di noi, della redazione di Udinese Channel, nella lettura dei detti friulani. Ma restiamo ancora sulla situazione dell'Udinese. Andiamo a dare un'occhiata in casa Torino. Ventura con il gruppo quasi al completo. Doppia seduta per il Toro di Mister Ventura. Al mattino programma incentrato sulla parte atletica tra campo e palestra. Nel pomeriggio sessione tattica in preparazione alla trasferta di Udine. Tutti a disposizione, fatta eccezione per Masiello e Gonzales, che hanno svolto un lavoro personalizzato. Oggi poi è in programma un allenamento tecnico-tattico. Questa è la situazione del Torino, di Giampiero Ventura, che davvero, insomma, rappresenta un po' il massimo esempio della volubilità dei tifosi. Perché ad inizio gennaio il Torino era ampiamente criticato. Addirittura la panchina di Ventura sembrava scricchiolare. Adesso il Toro è la squadra più in forma del campionato. Il Toro è una squadra applaudita da tutti. Per cui basta davvero poco per far girare la ruota. Spostiamoci adesso sul Gazzettino del Friuli. Continuiamo la nostra analisi dei quotidiani locali. Il Gazzettino che apre con il test di ieri pomeriggio contro la Clodiense. Prove tattiche di anti-Torino. Nella Michiole di ieri al campo Bruseschi, Stramaccioni ha verificato alcune varianti di gioco. Allora andiamo a dare anche qui un'occhiata nel servizio a cura di Guido Gomirato. Stramaccioni nel test contro la Clodiense, formazione militante nel girone C della Serie D, ha dato spazio a tutti gli effettivi, ad eccezione per Di Natale, che ha svolto un allenamento in palestre a lungo degente. Domizzi ha provato non solo l'assetto tattico anti-Torino, il 3-5-1-1, ma ha anche qualche soluzione tecnica che potrebbe riproporre contro l'undici di Ventura. Vedi Pinzi che è stato impiegato nella ripresa nel ruolo di mediano metodista a protezione della difesa. Il Mastino se ne è cavata benino senza strafare, come prevedeva il Copione, dimostrando di essere in costante crescita nella condizione generale. Si candida poi anche Bruno Fernandes nel ruolo di Mezzala, ha fatto bene ieri anche il portoghese, Terò gran gol e poi appunto di nuovo Benino. Pinzi, situazione dell'Udinese comunque da monitorare costantemente per quanto riguarda la scelta dei titolari di domenica. La situazione poi Ertò, solo una contusione, dunque più ottimista il gazzettino rispetto al messaggero, l'allarme per Ertò, infortunatosi dopo 17 minuti in un fortuito scontro con l'attaccante La Clodiense Santi, è rientrato a fine test. Nessun trauma al ginocchio, anzi nulla di grave, solamente una forte contusione al perone della gamba destra. Il francese che ha lasciato il Friuli zoppicando, quasi sicuramente oggi non si allenerà, ma non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua presenza domenica contro il Torino. La situazione di Piris che ieri non è sceso in campo, solo scopo precauzionale. L'affaticamento al ginocchio destro che ha accusato l'altro ieri in allenamento sembra essere superata e non preoccupa. Stamani poi il paraguaiano dovrebbe allenarsi assieme al gruppo come del resto di Natale che ieri ha svolto un'intensa seduta preparatoria in palestra. Ancora poi il tecnico Bianconero oggi dovrebbe dirigere una partitina 11 contro 11 provando la formazione che affronterà inizialmente l'11 di nuovo di Ventura. Domattina invece è in programma la rifinitura al termine della quale strama terrà la rituale conferenza stampa pre-partita. Dunque ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso la prossima sfida con il Torino, una sfida importantissima per il destino dell'Udinese e per il campionato dell'Udinese visto che i bianconeri vogliono rialzarsi dopo tre KO consecutivi. Hanno le carte per farlo, bisognerà però metterle in gioco. Andiamo a leggere ancora poi alcune dichiarazioni di Simone Scuffette che ieri come vi dicevo è stato protagonista all'evento di Gemona. Sono orgoglioso dei tifosi dell'Udinese che anche nei momenti difficili dimostrano tanta passione, vicinanza alla squadra del cuore e, ha detto il portiere, alla presenza di tanti bambini che litigano per avere il suo autografo. Quindi davvero una situazione molto molto bella intorno ai tifosi dell'Udinese e soprattutto a parte dei più piccoli che davvero illuminano i propri occhi quando incrociano lo sguardo con i calciatori dell'Udinese. Spostiamoci adesso sulla Gazzetta dello Sport andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani nazionali perché ieri c'era la semifinale di Team Cup tra Fiorentina e Juventus una sfida sentitissima ed ha vinto la Fiorentina. Possiamo andare con le immagini una Fiorentina che ha trionfato grazie ad una doppietta di Salah Mohamed Salah, calciatore arrivato dal Chelsea nel mercato di gennaio ha praticamente condotto la Viola alla vittoria. Eccolo qui il primo gol, una velocità impressionante a parte l'egiziano, 22 anni per lui che è fulminato così storari un gol bellissimo da parte del numero 74 che davvero si è preso la Fiorentina e può essere senza dubbio considerato il miglior acquisto del mercato di gennaio. La Juventus poi pareggia con il colpo migliore di questo signore qui ossia Fernando Llorente lo spagnolo con un terzo tempo fulmina neto e quindi permette alla Juventus di pareggiare un pareggio però effimero perché al 54esimo arriva il vantaggio della Fiorentina di nuovo con Salah, bravissimo l'egiziano ad essere freddo davanti a Storari e a bloccare il risultato sul definitivo 1-2 un risultato importantissimo per la Fiorentina ottenuto allo Juventus Stadium torna a vincere una squadra in casa della Juventus dopo 26 mesi davvero un risultato importantissimo per la squadra di Montella che a questo punto vede avvicinarsi la finale di Team Cup è considerato anche il pareggio del Napoli in casa della Lazio ecco che diventa sempre più probabile un remake della finale l'anno scorso tra Napoli e Fiorentina ma vediamo come la Gazzetta dello Sport analizza analizza la gara di ieri ed apre appunto con Mohamed Salah si sprecano oramai i giochi di parole sul marocchino Sim Salabis col paccio della Fiorentina fa sparire anche la Juventus eccolo qui la Juventus che non perdeva con un'italiana da 26 mesi davvero impatto clamoroso di Mohamed Salah che è arrivato alla Fiorentina nell'ambito dell'operazione quadrado che ha portato l'ex udinese al Chelsea al momento direi che non c'è dubbio su chi ci abbia guadagnato anche l'antimafia indaga sul Parma lo leggiamo in taglio alto si allarga l'inchiesta sul crack giallo-blu il procuratore incontra Bologna e il capo della DDA ha contatti tra un clan calabrese e i vertici del club davvero più si scava nella vicenda che riguarda i Ducali e più vengono fuori elementi che non ci avrebbe mai fatto piacere raccontare Sky attacca la Serie A è poco credibile, noi paghiamo ma il campionato non è più regolare la Lega darà i soldi per far finire il torneo al Parma effettivamente è dura dare torto a Sky perché insomma il Parma ha chiaramente minato il naturale svolgimento di questo torneo una situazione paradossale che secondo me dovrebbe comunque mietere alcune vittime perché non può essere normale considerare un evento del genere e farlo passare sotto traccia comunque continuiamo ancora nell'analisi della prima pagina della Gazzetta l'intervista Glic Polacco dal cuore toro siamo nel calcio che conta il difensore classe 88 capitano dei Granata è una delle sorprese più belle della stagione il rompipallone di Gianni Gnocchi il bonifico di Manenti fermato alla polizia stradale dopo Modena Nord procedeva troppo lentamente riferimento ancora all'attuale presidente del Parma che continua a promettere soldi continua a promettere lo sblocco di questo bonifico che però insomma oramai sono due settimane che non vuole proprio saperne di arrivare in Italia di spalla poi si parla del Milan Inzaghi ci riprova conquistare il Milan con cerci titolare dunque Super Pippo si affida a quello che può essere considerato il colpo il mercato di gennaio dei rossoneri colpo però che di fatti finora si sta rivelando a salve poi l'astinenza da big per l'Inter è ora di diventare grande l'Inter che vuole crescere con Roberto Mancini in taglio basso gli altri sport la Formula 1 video shock Alonso stava male lo spagnolo era già incosciente prima del botto dalla camera car di Vettel si mostra come la McLaren era fuori controllo una situazione davvero molto molto difficile quella di Alonso che addirittura secondo le ultime indiscrezioni dopo l'incidente credeva di essere nel 1995 per cui una perdita della memoria di 20 anni avrebbe dichiarato ai tecnici e ai commissari che l'hanno immediatamente soccorso mi chiamo Fernando ho 14 anni e guido i kart davvero qualcosa di stranissimo sul quale bisognerà assolutamente indagare sfogliando poi ancora la gazzetta dello sport si va a scandagliare un po' la situazione della Fiorentina salà doppietta faraonica la Juve sconfitta allo Stadium la Fiorentina non vinceva a Torino da 7 anni e lo fa ora grazie al campione provenuto dall'Egitto ancora poi Mohamed Salah soltanto vittime illustri per il nuovo gioiello viola velocità, classe, precisione e gol a Tottenham, Inter e Juventus Montella è simile a Quadrado ma segna di più ce lo godiamo davvero un Montella con un sorriso apertissimo aver venduto Quadrado averci ricavato tanti soldi e in più anche Mohamed Salah insomma se non è un affare questo non so davvero come definirlo ancora poi andiamo a dare un'occhiata alle pagelle le pagelle di Juventus Fiorentina la Juve per una volta in cappa in una serata storta 5 e mezzo Llorente gol grinta e corsa le insufficienze però sono 6 è davvero stranissimo quando si parla di Juventus Allegri 5 e mezzo prima sconfitta del 2015 prima allo Stadium dall'aprile del 2013 il 4-3-3 esperimento di frontiera delude e lascia una domanda giusto avere l'11 titolare solo nel finale ancora poi il migliore invece in controtendenza con quello che accade in campionato Fernando Llorente le cross di Pepe è bello ma lui va a prendere la palla sulla mole Antonelliana che gol il resto lotta corsa e qualche errore diamo anche un'occhiata al peggiore che è Marchisio non sono un pirlo direbbe Mu gioca da play ma ieri sera non valeva Andrea tre errori subito poi regala la palla dell'1-2 in tutto 15 palle perse meglio Mati se piacciono i confronti gli altri voti poi quasi tutti negativi 6 e mezzo Storari 6 Caseres 5 e mezzo Bonucci 5 e mezzo Gobonna 5 Paduin 6 Vidal 6 Pogba 6 Pepe che si rivede dopo il lungo infortunio 5 e mezzo Coman 6 Tevez 6 Morata e 5 e mezzo per un'altra conoscenza vecchia conoscenza del calcio friulano e il Tucumán Pereira merita invece un grandissimo voto la Fiorentina 7 Mati Fernandez piedi e lotta Rodriguez c'è figurone poi di Neto che davvero dimostra di essere un grandissimo professionista nonostante a quanto pare abbia già firmato per la Juventus per il prossimo anno sta assolutamente chiudendo a doppia mandata il lucchetto della Porta Viola il tecnico Montella 7 e mezzo viene allo Juventus Stadium controlla il gioco e a tratti mette in piedi un seminario di possesso palla dopo Londra è un trasfertista professionista la finale non è lontana davvero solo applausi a Vincenzo Montella che resta uno dei migliori tecnici della nostra Serie A il migliore è Mohamed Salah che merita addirittura un 8 una cover di Cassano in Bari Inter nel 99 controllo di tacco e fuga per la libertà tecnica dai e vai e due gol per il primo in 30 giorni arriverà a casa la multa eccesso di velocità si parla del gol di Cassano in Bari Inter questo forse addirittura più bello perché parte da più lontano il peggiore vediamo chi è è Basanta con 5 come il proverbio come il proverbio sui tre indizi uno si fa saltare da Vidalla al via due Llorente salta davanti sul gol tre prende un palo da pochi passi il peggiore con Maglia Viola gli altri voti della Fiorentina sono ovviamente quasi tutti positivi 7 per Neto 6 e mezzo Mika Richards 7 per Rodriguez 6 per Alonso 6 e mezzo Kurtic 6 e mezzo Badei 7 per Mati Fernandez 5 e mezzo per Mario Gomez 6 e mezzo per Joachim 6 e mezzo per Ilicic 5 e mezzo per Diamanti e 6 per Aquilani questa allora la situazione della Viola che sicuramente non può che essere soddisfatta di quanto mostrato ieri c'è poi anche un'intervista di Paolo Condò a Vidal leggiamone velocemente un estratto Vidal con il talento liberato la mia famiglia dalla povertà intervista alla mezzala bianconera che racconta la drammatica giovinezza aveva 13 anni e a casa non c'era niente da mangiare Vidal che poi davvero con la sua professionalità e col suo grandissimo talento come giustamente detto nell'intervista è riuscito a rivoluzionare completamente la situazione andiamo ora a dare un'occhiata alle prime pagine di Corrierello Sport e Tutto Sport prima di salutarci Corriere che ovviamente apre con Salah strega la Juve che spettacola l'egiziano con due gol lancia la Fiorentina verso la finale e bianconeri battuti in casa da un'italiana dopo due anni se non vado errato l'ultima dovrebbe essere stata la Sampdoria di Delio Rossi tra Milan e destro mancano i gol in taglio alto ancora un viaggio nella difficile situazione di casa rossonera e poi il Napoli De Laurentiis chiede una legge anti violenza nel frattempo poi di spalla c'è l'intervista al difensore del Granada quindi in orbita Pozzo che però è già praticamente passato all'Inter Murillo all'Inter diventerò grande queste le parole del difensore già acquistato per giugno ancora poi Alonso un blackout durato due giorni come vi dicevo ha perso vent'anni di memoria ora però la situazione sembra rientrata comunque per sicurezza non correrà nel GP di Australia la lettera di Sky poi il caso Parma oggi si decide se va in campo il piano della Lega è quello di trascinare praticamente il Parma fino a fine stagione tutto sport un titolo emblematico e come dire una punzecchiatura importante nei confronti del tecnico bianconero allegri perché strepitoso Salah non basta di Orente ma al tecnico poniamo due domande uno se ci teneva tanto alla Coppa perché un turnover così esasperato due perché anche dopo l'ingresso in campo di Tevez per Eira e Morata si è rivista la squadra molle e spenta del finale di Roma domande che noi lasciamo assolutamente al tecnico allegri domande alle quali non ci interessa rispondere ancora poi in taglio basso il Genova Juve guarda come mi diverto Iago Falche e poi è Soccer Star con Kakà e Giovinco analisi e piccolo viaggio all'interno della Major League Soccer il campionato americano noi chiudiamo qui la nostra segna stampa sportiva abbiamo analizzato un po' la situazione dei bianconeri ieri protagonisti in amichevole in vista della prossima gara con il Torino situazione comunque soddisfacente bisognerà però capire un po' come stanno alcuni elementi uno su tutti Thomas Ertò a me non resta che salutarvi e rimandarvi ai prossimi appuntamenti sempre qui su Udinese Channel buongiorno Friuli ancora una volta